ciao a tutti e come sempre ben ritrovati per un nuovo astrocaffè da passare insieme oggi è la giornata speciale in cui ci occupiamo di leggende metropolitane e bufale e una di queste la più famosa riguardo un asteroide e che c'è un asteroide che ci colpirà da un momento all'altro l'avete sentita periodicamente viene fuori e probabilmente avete sentito una variante in cui c'è un asteroide che ci colpisce il lunedì prossimo o tra due mesi ed è grande così in realtà non sappiamo di nessun asteroide che sta per colpirci da un momento all'altro potrebbe succedere potrebbero esserci piccoli oggetti che non abbiamo ancora visto che potrebbero colpire magari singole zone tipo che ne so brescia per dire o livorno ma per adesso non siamo a conoscenza di alcun asteroide che sta arrivando verso la terra ed è particolarmente pericoloso c'è stato uno però che quando abbiamo scoperto sembrava puntare molto probabilmente verso la terra con una possibilità su circa circa erano una su 30 qualcosa era 2,7 per cento di possibilità di colpire la terra ed era un oggetto che si pensava fosse grande circa 450 metri in diametro quindi non abbastanza grande da portare alla fine del tempi ma abbastanza grande da portare alla fine dell'umanità come la conosciamo di creare un impatto così devastante sulla terra da avere un cratere di oltre 5 chilometri in diametro e avere un effetto devastante per lunghi periodi forse anche un inverno globale e siamo un po' al limite ora che è successo con quest'asteroide? beh prima di tutto gli abbiamo dato un nome rassicurante visto che c'era la possibilità che ci colpisse l'abbiamo chiamato Apophis che nella mitologia egizia è la nemesi principale di Ra Ra è la divinità del sole Apophis è una creatura serpentosa che cerca di portare l'oscurità la fine dei tempi quindi era un nome perfetto per qualcosa che poteva colpire la terra nei mesi successivi alla scoperta abbiamo iniziato a guardarlo con più attenzione per vedere in che modo la sua orbita stava cambiando dalla possibilità iniziale di circa 2,7% di colpire la terra e siamo passati molto rapidamente a possibilità su migliaia e ora siamo molto sicuri che non colpirà la terra nel prossimo prossimo futuro quindi sul lungo periodo non lo sappiamo ma forse riguarda l'Apophis avete sentito nominare qualcosa chiamato Keyhole cioè il punto preciso dove nel 2029 quando passerà vicino alla terra passerà a meno di 32.000 km dalla terra quindi più vicino di tanti satelliti telecomunicazione che sono in orbite gestazionarie se passerà in un punto molto preciso chiamato Keyhole di circa 1 km in diametro nel 2036 quando ritornerà dovrebbe colpire la terra in realtà abbiamo scoperto che non c'è un Keyhole in questo caso non passerà abbastanza vicino da essere spostato dalla terra quindi non c'è una preoccupazione per il 2036 per il futuro per il 2086 potrebbe avere una chance su 256.000 di colpire la terra per cui nei prossimi anni vedremo diverse agenzie spaziali che inizieranno a lanciare missioni per studiare questo asteroide e incluso la Cina che ha in mente una missione e vedremo se riusciremo a creare qualcosa per deviarlo just in case non si sa mai per adesso finché la terra c'è finché nessuno ci sta distruggendo incrociamo le dita e pensiamo a un piano e noi ci continuiamo a sentire ogni mattina finché la terra esiste ancora continuate ad essere meravigliosi ci sono due piccole chicche a livello nerd che volevo raccontarvi la prima è che il nome Apophis è stato dato anche in onore a uno dei grandi cattivi delle serie iniziali di Stargate e c'è un videogioco di id software chiamato Rage in cui la trama principale si basa sull'impatto di un asteroide che è proprio Apophis sulla terra ed il mondo post apocalittico che ne segue qual è la vostra serie preferita o film o altro in cui ci sono impatti di asteroidi se qualcuno osa dire l'inominabile che voi sapete qual è il film in causa vi faccio male fatemi sapere qui nei commenti qual è la vostra serie o altro preferito in cui ci sono asteroidi noi ci vediamo la prossima volta un grande abbraccio un grande abbraccio